Guerrino Albani è il segretario del COBA, il consorzio che si occupa del raccolto dei rifiuti e stabilimenti balneari. Si parla in questo periodo di liberare la spiaggia, appunto da quello che viene chiamato spiaggiato, portato dai fiumi nel corso dell'invernata, per Pasqua, anche una iniziativa dell'amministrazione comunale. Si fa in tempo e secondo te come si deve fare? Noi abbiamo avuto diversi incontri con l'amministrazione e con il gestore l'unico, unico Lecotedi, che ha provveduto a stipulare il contratto per la raccolta e la rimozione dello spiaggiato con la Giuliana Patrimonio. Ci stiamo coordinando con la Giuliana Patrimonio per iniziare già da lunedì prossimo la rimozione dei mucchi già vagliati da parte dei balneari. Quindi sostanzialmente penso che buona parte, se non tutta, del litorale giuliese sarà pulito per le feste pasquali. Ma riguardo solo i stabilimenti balneari? Riguarda solo gli stabilimenti balneari. Quindi sulle spiagge libere saranno i rifiuti? No, 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 no. Giuliana Patrimonio nel lemore, perché adesso i balneari stanno finendo di separare e predisporre i mucchi. Poi nel lemore di questa preparazione da parte dei balneari, la Giuliana Patrimonio provvederà a pulire le spiagge libere. Anche le spiagge libere saranno sicuramente pulite. Senti, come si opera? Se possiamo fare per Pasqua, hai detto, tempo per mettere un po' di pioggia. Sì, pare che proprio lunedì ci sia il picco di questa perturbazione, poi però dovrebbe volgere al tranquillo. Anche se comunque da ultime comunicazioni che ho avuto con l'amministratore Ranalli della Giuliana Patrimonio, anche con la pioggia se proprio non è battente, grossi problemi non ci sono a rimuovere i mucchi già separati. Quindi che arriva, perché arrivano molte persone a Pasqua, a vedere proprio la spiaggia, a vedere Giuliano. Certo, certo, noi siamo una cittadina turistica, quindi alla fine per Pasqua dobbiamo essere pronti necessariamente perché inizia, tra virgolette, la stagione turistica. Quando abbiamo qui Gabriele del COBA, non possiamo non chiedere a che punto è il famoso ricorso al TAR che vi ha dato ragione attraverso una decisione pressoché analoga del Consiglio di Stato sulla possibilità di fare autonomamente questo servizio? Allora, noi stiamo aspettando ancora questa sentenza che riguarda specificatamente il regolamento comunale. Ovviamente la sentenza del Consiglio di Stato pone dei problemi adesso al regolamento vigente perché si dovrebbe adeguare a quella sentenza, secondo noi. Quindi ci aspettiamo che entro la fine di marzo venga licenziato un nuovo regolamento Tari che tenga conto di quella sentenza. E perché questa era l'idea dell'amministrazione, sì? Diciamo, sembra di sì, sembra di sì, certo. Poi gli ultimi eventi oscuri di Palazzo, onestamente, non so dove andranno a parare.